sono ancora un po' giù di morale per quella che è stata questa partita, per quello che è stato il risultato per quello che è stato il tutto, il generale, il weekend calcistico però mi sembrava giusto e doveroso portarvi la mia live reaction vissuta insieme ai miei amici tra l'altro tipo tutti anti-juventini tranne uno solo e non è quello che zoomerò, lui semplicemente non stava capendo di essere vivo in quel momento questo è un video in collaborazione con Wafootball, come al solito trovate il link qui sotto in descrizione per scaricare l'applicazione e spero che possiate essere stati contenti anche di questo sforzo immane che ho fatto nel portarvi una live reaction che sicuramente non mi ha reso felice, ecco Gatto, 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 gatto Ma tu hai gli occhi gialli Gatto, gatto Ma Ben Arezzo è sbagliato? Ha provato il pollicione Bell'assist, grazie Stiamo latenti Bello, bello Ce l'ha fatta Ce l'ho contro il fantacalcio Fa lo stesso, il fantacalcio non c'entra niente Ce l'ha fatta Bell'azione però Ha fatto assi 49 giorni Ha fatto assi Non esageriamo Non ho un video visto Ronaldo Ti risulta Ronaldo? Che non puoi Perché te non piovevo l'olio Bene, bene Vamos Bello che ha abbracciato il sogno Cristiano Ronaldo Ci sta, sono amici di vero bello Fa ridere come cosa Di bala questo Bello Difessore Ragazzi cos'è adesso? Quanta No, terza Tu per che squadra ti fai in questa partita Io penso che ti farò per la squadra romana Di questo colore Chi è che l'ha messa? Un proprio colore Adesso Uno pari Luis Felipe Uno pari Ma no Se l'hai verità con la last Chi è che l'ha messa vecchio? Mi voglio gli ultimi due minuti Tacchetti E poi anche tacche E Luis Felipe Ma il colore Premi Come cazzo Ma il colore Ti sei calato Una cosa scrive Perché sta prendendo la lettera per Babbo Natale Caro Babbo Natale Luis Alberto Luis Alberto Tipo fa sempre assist Fa sempre assist Buonunce 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 Se c'era di lì La prendeva Ma prende mai Buonunce Oh Oh E' rosso Ma è l'ultimo uomo Rega Ma è rosso Ma come fa dagli giallo? Si si è da rosso Ah figa Cioè secondo me Ha l'intervento scompostissimo da rosso E' da rosso E' da rosso Eh si è rega Sì si è da rosso Secondo me Ma il bar non so Rosso No Rosso secco Eh si è da rosso Non mi stai Fuori poladdolo Red Red card Fuori polduzzi Caldo Buonunce E' bambini Bellatore Buonunce Andiamo a provare a vincere lo stesso Ma Prolck a vincere Ad dehydvere всю perdere ecco io mo ce l'ho conto che cazzo di gol che ha fatto che cazzo di gol ha fatto ha fatto un gol per il passaggio stop allucinando bellissimo c'è il passaggio anche muo dio l'editoso che non mi dai retta io ne so di calcio ti ho detto che la latte non è il momento non è il momento James tre gol in stagione tre gol in stagione la Juve stop è col più bello della sua vita contro piede pregavolo dai calcio di ricore mamma mia che brutta serata mamma mia che brutta serata palla persa da piano il suo giocatore più forte del piano se no si sarebbe già tirato su questa è la giocata venticale vai nani io voglio Asceni però l'ho preso magari da prima si si oh dio oh dio cristo ma roba da piole guarda te guarda te immobile chiama la testa proprio dai ragazzi questo è un segnale mi chiusi a dire chiama la testa dicelo di dopo dai dai ma aspetta dove vai ma dai non ha parole 3 a 1 ma Lazzari cosa fai? io sono lui Dona Sperl ma dalla oggi stai oggi è la partita che mi hanno perso grazie per essere stato invitato qua stasera meglio qua che cazzo di Pipo comunque si comunque Lazzari è una merda si ma va a fumitare ti ho sbagliato peso la cima devi passarla adesso un tercino bello 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 bello